1-1 fra Triestina e Provercelli allo Stadio Rocco. L'Unione si salva dalla sconfitta nei minuti finali grazie al pareggio di Di Gennaro. Una partita che sembrava persa fino all'assalto finale. Nell'Unione Pisseri tra i pali e stessa difesa come con il Novara. A centrocampo Gori e Pezzella, Paganini e Furlan sugli esterni, davanti Minesso e Gans. Dopo il secondo minuto un cross di Paganini porta a un doppio tentativo di Gans, fermato prima da un difessore e poi dal portiere. Al quinto minuto risponde la Provercelli con un tiro al volo che finisce alato. L'Unione ci prova con Paganini che di testa giri in porta il cross di Pezzella ma in posizione di fuorigioco. Al tredicesimo è Gans che si trova al pallone dell'1-0 tra i piedi ma il tiro centrale viene neutralizzato da Valentini. Al ventiquattresimo doppia occasione per gli ospiti con Arrighini ma Pisseri ferma tutto negando la gioia del gol. Nella ripresa è ancora protagonista il portiere alla Bardato per disinnescare Arrighini. Al ventitresimo della ripresa palla gol per l'Unione ma Paganini non riesce a deviare il cross in porta. Al trentaquattresimo però è della morte a portare in vantaggio la Provercelli. Nei minuti finali la reazione dell'Unione viene premiata e trova il pareggio con Di Gennaro. Punizione di Pezzella, prolungamento di Minesso e gol del numero 30 alla Bardato. Un punto che salva la faccia ma l'Unione ancora è a caccia della prima vittoria.